Sulle punte da quando era bambina, poi è cresciuta e quel sogno si è avverato come in una favola a lieto fine che si rispetti. Roberta Legrottaria, 17 anni, di Palo del Colle, presto ballerà a New York dopo essere stata al Bolshoi di Mosca. È stata questa esperienza un'esperienza unica, molto difficile. Sono andata via di casa che avevo 14 anni, ero ancora una bambina e sono cresciuta facendo questa esperienza. Ringrazio i miei genitori e le mie insegnanti di danza che mi hanno dato l'opportunità di vivere questa esperienza e di affrontare tutte le difficoltà che ha avuto però con piacere. Un sogno anche quello di Italo Resta, 23 anni, sempre di Palo del Colle, campione mondiale di nuoto, 400 stile libero.